Finalmente i team of the season della Premier League sono arrivati qui su FIFA 23 Mamma mia ragazzi, devastanti Qua li vediamo tutti insieme i team of the season Quel Varane, quel Rashford, Holland Fantastici Vi ho preparato un contenuto da leccarsi i baffi Mi sono superato rispetto a settimana scorsa nel mio 3 di 6 Ora ne voglio 10 tot Perché ho dei pacchi, senza senso Ve li mostrerò dopo Ho anche 100 euro di più a points che ho shoppato grazie a Neba Nella descrizione trovate il link per comprare card PSN a bassissimo costo Io lo utilizzo ormai da tantissimi anni Ve ne ho parlato anche nello scorso video FIFA points, card per ordinare giochi Plus, qualsiasi cosa nel mondo di FIFA Le card ricaricabili di PlayStation Store Le trovate a prezzi bassissimi Io ho shoppato da lì e quindi vi lascio il link in descrizione con tutte le info Se volete passare dateci un occhio Io come sempre vi ricordo di spaccare questo video di mi piace Un super pack opening merita un super sostegno Nei commenti fatemi sapere chi è il più forte per voi E voi cosa avete trovato? Basta parlare, lanciamoci uno spacchettamento Eccoci qui, carichi a molla Ragazzi, io non ho detto 10 tot che voglio a caso Ho dei pacchi e ora ve li mostro che sono wow Oltre a dire wow per questi giocatori Li voglio trovare adesso Signori, andiamo a mostrarvi prima di tutto cosa c'è Abbiamo un 10 giocatori 85 e più Un altro ne abbiamo in un altro account Quindi due 10 giocatori 85 e più Due pacchi, otto giocatori premier league Abbiamo un pic 85 e più E uno, due, tre, quattro, cinque Cinque giocatori 85 e più E poi abbiamo uno, due, tre, quattro Quattro, undici giocatori premier league 81 e più E un doppio workout, doppio 86 E poi vediamo un po' cosa c'è nei pacchi promo Se c'è qualcosa, un 200k Ehi baby, cucciolo Io voglio trovare il mondo No, che cavolo devo fare? No, che è successo? Un pic, pic, levati dal cazzo Omidei Holland Vabbè un 85, ma benissimo Grazie pic, di nulla 15% di trovare un tot 15% Vediamo questo 15% Partiamo con un 87 Un 15% Secondo pacco Madre di os Dai, dammi sto blu Ma quanto sono rari sti figli di nozzo Ma sei un pezzo di merda Un anno che non esci tot Allison Esci sempre tot L'unico anno in cui non esci E l'ultimo pacco E poi ovviamente quelli che abbiamo da parte Più l'altro account Abbiamo tanto contenuto Ancora oro Mannaggia Paduin, Maguire Vi prego Anche quest'altro è un pezzo di merda Che non è uscito tot E andiamo ad aprire questo 500 FIFA Points Subito a te, bello Fammi sognare Un altro oro workout Porca troia Olanda DC No, vabbè Regà Dai, però Aspetta È una presa in giro Virgil Trent Allison Ho trovato tutto il Liverpool Che ne esci lo tozzo E andiamo 11 Premier League Vediamo un po' il drop rate di questo pacco Goloso o non goloso Walkout Toro Mannaggia Ro No, dai Oh, porca troia Il prossimo chi è? Dai, ma che prego Bel pacco però, eh Sinceramente Bel pacco Cribbio Tu sei un tipo molto spiritoso di esports Tu sei un tipo molto spiritoso In poche parole Gli unici walkout che sono rimasti Sono quelli del Liverpool Ullala Ho fatto bene Ho fatto bene, raga A tenermi 3000 Un solo pacco Da 400.000 crediti Costa anche solo 2000 FIFA Points Ti prego, Henry Blu Nazino 400.000 Nazino Ti prego, blu Non è una bella giornata Abbiamo capito che non è una bella giornata Abbiamo capito E abbiamo inteso Che non è una bella giornata Abbiamo capito Che gli esports Non vuole dropparci Un qualche giocatore buono Abbiamo capito questo Grazie mille gli esports Concludiamo I FIFA Points Ultimo pacco Doppio 86 più Così concludiamo I FIFA Points Poi abbiamo quelli da parte Che Müller Oh Gesù L'ho trovato 9 volte Pick fatto Questa volta niente nascondino Lo guardiamo diretto Possiamo trovare un Eroi World Cup Fanta Foot O Trophy Titans 88 più Vediamo i nostri campioni Oh lala Che schifo Abbiamo altri due 11 Premier League 81 più Dai Nemmeno un blu Fino ad adesso Ecco l'ho chiamato Inglese Sportiere Tua madre Una bislunga Il più scarso Però abbiamo un Toz Finalmente Per far uscire Sto maledetto blu Serviva Un richiamo energico Ramsdale Non mi interessa Non penso di usarlo proprio Però Dai Almeno l'abbiamo trovato La felicità Almeno di aver trovato Questo scappato De casa C'è Andiamo con il Due giocatori 86 più Due giocatori Tutti e due Walkout garantiti E lui o non è lui E lui Non è assolutamente lui Francia Portiere Loris No Magnan Vabbè uguale a Loris Portiere francese 5 pacchetti 5 85 più Primo Ti prego Buono questo Dai Bruno Guimares Buono Sotto un altro Toz Però Che cavolo c'è buono Si Eh vabbè Dai se sei Che tonino 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 Panepino Dimmi che ti posso tendere Mannaggia il tonino Bruno Guimares 93 Cartina carina Peccato per il 3-3 Però Non sembra male Non sembra male Io l'ho trovato pure World Cup ai tempi Secondo 585 Back to back blu Era impossibile Ma ne trovo a passare Di acqua Sadio Min Man 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 Walk out Buono Buono Speriamo pochi doppioni Pochi doppioni Pochi doppioni Pochi doppioni Pochi doppioni Pochi doppioni Ma sono tutti I doppioni Nassino Terzo Non voglio guardare Non voglio guardare Mi sa che è blu Oddio 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 non lo voglio vedere Oddio non lo voglio vedere Oddio non lo voglio vedere A fisico A E E Eeeh Eeeh James Siamo a 3 James momenti Ultimi 2,5 gioco di 85 Più e poi abbiamo l'ultimo Il 10,85 Signori siamo a 3 tots Ramsdale Bruno Guimares E poi James Rice James Penultimo Ti prego Ancora sto coglione Siamo a 4 tots Ma sempre sto critico Siamo a 5 tots Ma solo loro sono trovabili Dai James e Ramsdale Ma che cripio Ultimo 5,85 più Let's go Ultimo blu Fafangula mamma Abbiamo l'ultimo 10 giocatori Non ho trovato uno buono Che coglioni Ma No 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 5 giocatori 85 Più No No 10 giocatori 85 Più I tots I tots alla fine li abbiamo trovati E sono stati anche un po' Alla fine abbiamo aumentato il numero Pian piano Lo andiamo ad aprire con lo zio Harry Harry Guardaci dalla su Harry Guardaci Dimmi che è blu Ok è blu Sappiamo che è blu raga Sappiamo che è blu Sappiamo che è un tots Buono 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 Perché se ne è uscito tots A sto pacco Un po' Minervosivo Ne mancano 3 Ne mancano 3 Ne mancano 2 Ti prego Dimmi almeno 2 Un solo tots Oddio Ti prego Non Non lo abbiamo Già questa è una cosa positiva Allora lo voglio andare a scoprire Lo voglio andare a scoprire Dalle statistiche Va Copriamolo Dalle statistiche Signori Si parte Allora 90 Ruben 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 Dias Se c'è un altro 97 Ruben Dias Let's go Ruben Dias Lo volevo Cazzo Lo volevo Let's go Let's go Lo volevo Almeno uno di quelli che volevo Io sognavo Ruben Dias Casemiro E poi Vabbè Se usciva Rashford O Holland Mi andavano bene Queste erano le quattro Queste erano le quattro carte che volevo Ruben Dias Casemiro Rashford E Holland Poi Ruben Dias è perfetto Oltre che sono pieno di difensori Ma stica Ruben Dias è anche perfetto Perché poi Tra una settimana Dovrebbe uscire Ronaldo Tots E lo ficco Perfettamente con lui Bellissimo Questo era l'ultimo pacchetto Nel mio account Adesso dobbiamo andare nell'altro Che ce n'è un altro di questi Non vedo l'ora Però almeno Dopo tutti quei Tots Un po' più bruttini Che costano poco Questo è bellissimo Quanto potrei Quanto costa? Costa un pochettino Dai costa un pochettino Però sono felicissimo Perché lo volevo Tanta roba Contento Contento Almeno Questi qui Li lasciamo in futuro Qualche SBC Lasciamoli là Adesso Andiamo nell'altro account A aprire un altro 1085 Dio mio Benedetto il signore Oddio Che trollata Oddio Che trollata Ero tutto chill Stav Ma perché Un pacco di merda Non so che pacco è Non so nemmeno io Che pacco Un pacco Raga Bruttissimo Pensavo che era Lo zio Holland Mamma mia Guarda quanta roba Mi ha lasciato lo zio coppio Per il number one Oh Eh Ma questo account È meraviglioso Ragazzi Io tengo I FIFA points I pacchettini I pacchettelli Più pacchi Più 585 Io tengo più di tutto Non trovo manco uno buono Subito lui Con Harry Kane E Odegaard Zuuu Fai pure con lo zio Harry Kane Zuuu Madre di Dios È scambiabile Oddio Scambiabile Raga Era il pacco Da 50.000 Oh mamma Ci ho pensato ora Il pacco da 50.000 Due pacchi 5 giocatori Non c'eco più Un doppio 86 E il 10.85 Ragazzi Oggi On fire Ragazzi Ma io vi dico Questo video Ma come fate A non mettere mi piace A lasciare un commento E condividerlo Sfiga Workout Doppio 86 Proprio Mamma mia Che brutto pacco Ultimo pacco di oggi Chiudiamo in bellezza 10 giocatori 85 più Manine scaldate Vediamo un attimo Così Maguire Occhionino del Maguire Occhionino del Maguire Nasino pisellino Blu No 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 Non blu Vergognoso Scandalo Assurdo Vabbè Lasciamoli lì Che abbiamo finito i pacchi Ma corca troia Enrique Nda il pacco da 50k E poi Ne andate a tenata Signori Grande giorno Di team of the season Abbiamo trovato un bel po' di tots Abbiamo trovato anche oggi Tanti tots Ragazzi Io spero davvero Che vi sia piaciuto Come pacco opening Obbligatoriamente Un bel mi piace Fate vedere il vostro sostegno Vi sto preparando Ogni volta Ogni pacco opening Di ogni settimana Vi sto preparando Dei contenuti Clamorosi Quindi ragazzi Un bel mi piace Davvero Sostenetemi Nei commenti Potete sapere Voi quanti ne avete trovati Iscrivetevi al canale Condividetevi il video Ovunque Come sempre Attivate la campanella Per non perdervi in me Nessun video Passate ai miei social Dove è tu che sto Vi ringrazio di vista il video Vi ringrazio e sostegno Dex è tutto E haters make me famous The way I do Oh 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 I am dreaming up of me now The way I do Iscriviti al canale Iscriviti al canale Iscriviti al canale